Oh che bello! Oggi voglio proprio fare un bel giro nella mia bella cesenatico. Oh, è questo? Cos'è? Un volantino. Ah, ecco, volantino, forse perché vola. Volantino, vola lontanino. Ecco perché volantino. Volantino? Ma però questi volantini che sono tanti perché volantino, volantini, volano tanti. Anzi, tantini. Che siano lì per fare la pubblicità? Oh, sta, 99 euro. Per farci leggere mentre noi andiamo a fare la nostra bella camminata nel nostro bel viale di cesenatico. Allora, i volantini volano per terra e ci fanno vedere la pubblicità. Ma forse che sia il caso che ci fosse un'evoluzione invece di farli volantini che li facciano fermini. Così stanno magari fermi dentro le buchette? Eh, secondo me sì. È ora di smettere di fare dei volantini che svolassano per tutta la città perché volano, vola la loro pubblicità. Allora io direi che d'ora in poi bisogna fare una legge per fare i fermini, non più i volantini. E se poi si trovano dei volantini e non dei fermini, fermi lì dentro le loro buchette, dove dovrebbero essere? Allora bisogna fare una bella multa alle multi maffionali. Basta volantini, noi d'ora in poi vogliamo i fermini. Per un commercio sostenibile scegli oggi il tuo domani, scegli il piccolo commercio, il cuore della nostra amata Italia. Da Gioia Emilia Romagna